Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento della rassegna letteraria Primavera con gli autori, rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana. Questa sera ospite della rassegna è lo scrittore e poeta tempiese Francesco Cossu che presenterà il suo secondo romanzo dal titolo Anime Intossicate, edito da Amico Libro. Ospite è anche Elena Frau che curerà alcune letture tratte dal romanzo. Francesco Cossu, nasce a Tempio Pausania nel 1969, è laureato in lettere, insegna letteratura italiana e storia in un istituto tecnico, ha diretto la rivista culturale Gemelle, ha collaborato con il Corriere di Romagna, il Messaggero, Roma, il Tirreno, la Nazione. Dal 1996 è corrispondente locale dell'Unione Sarda, ha pubblicato tre volumi di poesie, Trasfigurazioni nel 2001, Oroscurismi nel 2006 e Intervalli nel 2008. Ha già pubblicato un primo romanzo, Dietro il vento, sempre edito da Amico Libro nel 2015, abbiamo avuto il piacere di presentarlo qui ad Olbia, e adesso con Anime Intossicate presenterà la sua nuova opera narrativa. Lascio la parola ad Elena Frau, che inizierà questa serata con una lettura tratta dal romanzo. Grazie. Carissimo Aurelio, ti scrivo queste righe con la paura nel cuore, perché temo possano scoccare le mie ultime ore di vita terrena. Questi restanti scampoli di esistenza vorrei impiegarli per tentare di restituire dignità alle parrucchie cittadine e una gioiosa espressione della fede dei credenti. Le nomine clienterari di sacerdoti con inclinazioni sessuali incompatibili con i loro doveri, la ricerca di quattrini e le finalità carrieristiche conclamate superano il diabolico e affondano radici saldamente terrene, quali iscriversi a una fazione o un clan, entrare nelle grazie di un monsignore influente, assecondare i voleri dei superiori, di simulare le debolezze e allontanare da sé la minima ombra di comportamento sconveniente e in primo luogo sessuale. Ma l'ambizione, la spregiudicatezza e la depravazione non avrebbero potuto albergare fra le mura sacre se una personalità evidentemente ricattabile non le avesse tollerate sul nascere. Invece il ministero episcopale di Monsignor Palmas è continuamente e impunemente infangato da una condotta libertina, da un'esterità di facciata, da una prepotenza financo-teologica nelle prediche, da pretese esagerate in occasione delle feste patronali verso i comitati e le classi che si prodigano per organizzare le manifestazioni e da una rivalità inqualificabile per l'ottenimento di cariche onorifiche aggiuntive. La modestia e l'umiltà sono parole sconosciute o volutamente rinnegate da chi ha scelto la seduzione del potere, del denaro e di altri beni terreni come unico caposaldo del proprio operato pastorale. Così, la nuova evangelizzazione muove da presupposti di carrierismo, affarismo, raccomandazioni per o tramite autorità civili e sulla minaccia di vere e proprie calunnie per gli accusatori, sapientemente spacciate per accuse circostanziate e oggettive. La smaglia di scalare la gerarchia giunge persino a proporre ai superiori provinciali e regionali occasioni di visibilità mediatica, consulenze finanziarie per gli investimenti, la protezione e la valorizzazione dei conti correnti vescovili e la lievitazione dei contanti nei portafogli. Vie preferenziali dei consigli comunali per la modifica della destinazione d'uso dei terreni curiali con automatica rivalutazione catastale e, non di rado, gonnelle spedite direttamente a domicilio. Ma la spodoratezza verso se stessi non è da meno per chi reputa ad appartenere ad una casta e ad un'intelligenza superiore. Allora su queste basi tutto deve essere creduto e consentito. Da chi millanta specializzazione in filosofia dopo la laurea in teologia e da chi non va mai un giorno in vacanza pur di rovistare i cassetti altrui, controllare la corrispondenza e approfittare dell'assenza degli altri per dedicarsi a spassosi obbi indecenti e inconfessabili. Soprattutto è un continuo spiarsi per vocazione innata, prima ancora che per assurde e false esigenze di controllo. Mi fermo qui, perché penso sia abbastanza per farti capire come il maggiorente e la sua corte hanno ridotto la curia cittadina e la diocesi ad un letamaio, con attorno i soliti noti che li aiutano a preservare questa situazione abominevole, mentre i fedeli, soprattutto i giovani, scappano e ridono di noi. Quel che ti spetta è un compito arduo e da percorrere tutto in salita, ma so che sei l'unico che può arrivare al traguardo. Certo, della tua professionalità ti rinnovo la stima e ti auguro un buon lavoro e che il nostro cammino verso la verità rinnovi e assumini la fede di tutti. Con affetto sincero, Don Gaetano Isoni. PS, qualunque cosa possa succedermi, tu informa quanto prima le forze dell'ordine e scusami se io non ho avuto altrettanta intraprendenza. Grazie. Allora, buonasera e grazie di essere venuti qui. Allora, dallo stralcio della lettura di Elena si capisce che siamo dinanzi ad un anziano sacerdote, per esattezza è un vicario, si chiama Don Gaetano Isoni. È un vicario che sta per compiere 75 anni e quando i sacerdoti religiosi raggiungono quell'età fondamentalmente ormai vengono un po' messi in disparte dalla curia, dalla diocesi a cui appartenevano. Soltanto che nell'ultimo periodo della sua attività, diciamo così, di religioso, Don Gaetano Isoni, che è un uomo di vecchia tempra, di un vecchio di un tempo passato ormai, si è reso conto che l'ultimo corso della sua diocesi è un po' segnato da qualcosa che non va. Perché? Perché in questa diocesi, che io chiamo diocesi di Templi al Govenca, è giunto da poco tempo un nuovo vescovo che si chiama Monsignor Palmas. Questo Monsignor Palmas, per chi ha letto il primo romanzo, prende il posto del precedente vescovo di cui si parlava nel precedente romanzo, Dietro il Vento, perché l'altro era invischiato in situazioni legate all'eolico, alla speculazione eolica. Questo Monsignor Palmas è uno dei primi provvedimenti che prende quando arriva a Templi, dove è ambientato il romanzo, è quello di sostituire quattro parroci, molto stimati dalla cittadinanza, con nuovi quattro parroci, che stanno pensando più all'al di qua che non all'al di là. Sia nella predicazione, ma soprattutto nel modo di fare, perché tutti quanti questi quattro nuovi parroci, piuttosto giovani, ma non è una questione soltanto generazionale, hanno tutti interessi molto terreni, fare affari, avere dei conti correnti mascherati, o comunque sia, diciamo così, in incognito, sgomitano per cercare di arrivare subito nelle alte gerarchie della chiesa, sono poco propensi ad essere al servizio dei cittadini, diciamo così, diciamo che si occupano poco di curare le anime, si occupano molto di curare le loro tasche, e qualche volta anche le loro parti basse. Racchiudono un po', diciamo così, quello che è una tendenza che si sta riscontrando ultimamente da parte di tante persone che purtroppo indossano la tonaca, che la indossano più quasi come un lavoro, piuttosto che per una vera e propria vocazione. Ciò non significa che non ci siano sacerdoti che hanno ancora oggi una sincera vocazione, però riscontriamo sempre più di frequente la presenza appunto di sacerdoti che lasciano poco a desiderare. Ma al di là di questo, ritorniamo al romanzo. Questi quattro nuovi parrucci entrano subito in contrasto un po' con la cittadinanza, ma soprattutto Monsignore Azoni si rende conto che questi quattro parrucci, oltre che pensare a proprie tasche, oltre che pensare a delle soddisfazioni, diciamo così, anche sulla sfera sessuale, forse si sono macchiati di un omicidio. Perché il romanzo inizia con un giovane che si lancia da un ponte, e non è altro che un ex seminarista. Un ex seminarista che quando si lancia da questo ponte tutti pensano che sia semplicemente un gesto figlio della disperazione, figlio della, se volete, anche della depressione, figlio di una, diciamo così, di un'impossibilità, insomma, di integrarsi nella società e quindi praticamente sia un gesto tragico ma isolato. Tonesoni fiuta qualcosa che non va. E questo qualcosa che non va però viene subito insabbiato dalla, diciamo così, dalla diocese. Da questo gruppo di sacerdoti che io nel romanzo chiamo i soci degli anelli. Perché si riuniscono tutti nella sede vescovile e sono tutti, come posso dirvi, uno è legato all'altro attraverso varie forme di ricatto. Quindi si coprono a vicenda perché sono tutti ricattabili, incluso anche colui che gestisce la diocese, cioè il vescovo. Che forse, per parafrasare una domanda che mi fece il relatore nella presentazione di Alghero, che mi disse chi è il più donabondio di loro? E io gli risposi, il più donabondio di loro, secondo me è paradossalmente il vescovo. Cioè non è il proprio curato di campagna, il donabondio di Manzoni, ma questa volta forse il donabondio vero e proprio, quello che non ha il coraggio è il vescovo, perché è lui che ha dato, diciamo, ha creato le condizioni perché si verificasse tutto ciò e non riesce a ritornare indietro. Ovviamente quando Don Gattonasoni scrive questa lettera, capisce che sta toccando un tasto molto, diciamo così, molto delicato. Che cosa fa allora? Conosce questo giovane cronista d'assalto a cui è rivolta questa lettera, che si chiama Aurelio Giuha. E' di quei giornalisti che, diciamo, io che ho fatto per anni il giornalista, ve lo dico molto francamente, sarei voluto essere come Aurelio Giuha, uno che non ha peli sulla penna, come dico io. Cioè di quelli che non si fanno intimidire, se una cosa va detta, se una notizia va data, bisogna darla. Non bisogna mai coprire, come purtroppo oggi spesso e volentieri, ma non solo oggi, si fa o mai da tantissimi anni, che ormai il giornalismo sta diventando più quasi scandaglio pubblicitario di qualcuno che non vero e proprio giornalismo d'inchiesta. Ormai il giornalismo d'inchiesta in Italia ormai è finito. Tanto è vero che se il giallo e il noir oggi hanno tanto successo in Italia, è perché molti scrittori, molti giornalisti, in qualche modo, scusando il termine, si riciclano nel noir, perché almeno nel noir attraverso la formula che tutto è frutto dell'ingegno dell'autore, in qualche modo si evitano le querele. Se voi fate il giornalismo d'inchiesta oggi, lo potete fare soltanto su argomenti tipo l'immigrazione clandestina, sulla droga, provate a fare l'investigazione sull'uranio un poverito, provate a fare l'investigazione su qualcosa che ha a che fare su fondi neri, lo smaltimento di rifiuti tossici, praticamente verrete subito bloccati, ma non tanto da gente esterna, vi bloccano direttamente dalla redazione centrale, se non dalla redazione periferica, ancora peggio. Ecco, Reggio Juha è uno che in effetti qualche problema ce l'ha nella sua redazione, perché, tanto per cambiare, in questa nuova redazione arriva un nuovo caporedattore, che ha già il nome, vi dice molto, si chiama Mattia Devoto. E Mattia Devoto è un caporedattore che praticamente è lì soltanto perché occupa per quel posto, soltanto perché il padre aveva dei crediti nei confronti dell'editore, del giornale. E allora gli fa lui, ascolta, io assumo tuo figlio e quindi in qualche modo ti ripago, non personalmente, ma attraverso la mia pubblicità e tutti i canali, diciamo così, di entrata che i giornali hanno, in qualche modo estingo il mio debito assumendo tuo figlio, a titolo definitivo. E così è. Per cui non è un giornalista ben visto, perché è un giornalista che si è fatto strada soltanto attraverso, praticamente, dei giri, diciamo così, altri. Comunque sì, Aurelio Giuà, quando riceve questa lettera, ovviamente sente la responsabilità, però siccome è un giornalista che non ha peli sulla lingua e non ha peli sulla penna, in qualche modo cerca di fare il suo lavoro. Cioè, veramente capire se quel ragazzo si è veramente lanciato nel vuoto perché era un atto disperato, oppure se c'era sotto qualcosa. Il povero Don Gaetton e Zoni già ha paura, tant'è vero che nel post scriptum c'è scritto, qualora mi dovesse succedere qualcosa, succederà. A questo punto però entra in campo quello che è il protagonista del romanzo, tanto di anime intossicate, tanto di dietro il vento, e cioè l'ispettore Corti. Se Aurelio Giuà aveva, diciamo così, come argine, come blocco Mattia De Votto, anche Aurelio Giuà, la squadra, anche l'ispettore Corti, si ritrova un superiore perché ha un vicequestore, ormai si chiamano così, un tempo li chiamavano commissari, ormai il commissario è rimasto solo a Montalbano, ormai non esiste più la figura di commissario, si chiamano tutti i vicequestori. Come i presidi li chiamano dirigenti. Andate da un presidi a dirgli che lei si offendono, dirigente scolastico, ricordate, non sa mai che qualcuno ci vada, anche se non ve lo fanno notare, nell'animo si offendono, ormai si sentono dirigenti scolastici. Questo vicequestore, anche lui arriva a Templi a sostituire un precedente, diciamo così, un precedente vicequestore, arriva a Templi quasi per punizione, cioè è uno che deve gestire il commissariato senza tanti smottamenti, cercare di fare in modo che non si vada fuori un po' dai soliti passi, si cerca in tutti i modi di fare sì che ci sia una certa cautela e quindi, come dico io, fa il pompiere. Se Mattia Devoto fa il pompiere verso Aurelio Giùa, il vicequestore dell'Aria, Umberto dell'Aria, fa il pompiere nei confronti di Corti. Però Corti, per chi ha letto dietro il vento, è uno su duro, è uno che ha una dialettica molto particolare e soprattutto è un altro di quelli che non guarda in faccia a nessuno. Cosa succede? Succede che anche Corti, anticipato da Giùa, perché Giùa molte volte fa le sue inchieste prima ancora che le faccia la polizia. Molti mi hanno chiesto durante queste presentazioni come mai hai scelto come coprotagonista di un giallo un giornalista e la risposta per me è molto semplice. Voi sapete che chi fa le indagini, giustamente, le fa nel chiuso delle proprie stanze, perché è un combito molto delicato e devi accuratamente vagliare tutta una serie di documenti per poter arrivare poi a emettere, diciamo così, l'atto finale del tuo lavoro. Chi invece smuove l'opinione pubblica, mi sono detto. Cioè non smuovono l'opinione pubblica i giudici, non smuovono l'opinione pubblica gli avvocati, non smuovono l'opinione pubblica i poliziotti, che so, l'investigatore che può essere un ispettore, un vicequestore o quello che è. Chi smuove l'opinione pubblica sono i giornali, sono le televisioni, oggi i blog, quindi i giornalisti. Siccome in questa cittadina c'è da far digerire una verità veramente indigesta, mi sono detto qua, o Corti questa volta riceve l'aiuto di qualcuno, e questo qualcuno è il giornalista, Aurelio Giuga, che smuove, inizia ad aprire diciamo così un po' di acqua in questa palude, in questa melma che non si muove mai nulla, anche se, ripeto, gli abitanti di questa cittadina comunque avevano già un pochino preso le distanze, però un conto è prendere le distanze, un conto è ammettere che questi famosi soggi degli anelli sono tutt'altro che degli uomini devoti al Signore, sono devoti a tutt'altro. E allora ho affiancato questa figura di Aurelio Giuga, questo giornalista, per smuovere un po' le acque e fare in modo che entrambi riescono a far prevalere la verità. Io andrei a presentare il secondo brano di E che legge la Elena, è tratto da un capitolo che si intitola Giornalismo spionistico. Perché? Cosa succede? Allora, vi ho detto prima che qualsiasi giornalista vorrebbe essere Aurelio Giuga, almeno come lo intendo io il giornalista, cioè che scrivi veramente per l'amore della verità e non perché la gente ti dice guarda che domani devo presentare non so che cosa, guarda che domani viene l'assessore, guarda che domani questo e quell'altro. E questo Aurelio Giuga è da invidiare come giornalista perché ha delle fonti impressionanti, magari avessi avuto le fonti che a lui. Però è talmente scrupoloso che preferisce andare di persona per verificare se effettivamente la notizia che gli è stata data è vera oppure no. Nell'occasione si tratta di andare praticamente in un, quello che in Gallura si chiama uno stazzo, quindi una casa un po' isolata in campagna, perché ci sono certi festini e non c'è soltanto carne arrosto. Con sé si porta un amico molto particolare che nel romanzo si chiama Ivan, che tutti chiamano Ciano da Cianottico perché è tutto bloastro, che vive praticamente sempre in una casa dove la luce non arriva quasi mai, sempre con delle luci basse, un disordine impressionante però lui si orienta e che ha una passione piuttosto marcata per la fotografia. Perché? Perché Aurelio Giù asserve quella che in gergo giornalistico si chiama una fotonotizia. E vediamo un po' perché appunto si porta con sé questo amico. Quando intorno alle 21.15 si posizionarono, muniti di fotocamera e cannocchiale, sulla sommità naturale di un'altura posizionata a sinistra rispetto all'ingresso della tenuta dove si svolgeva il banchetto organizzato, non tutti gli invitati erano giunti sul posto. Arrivarono comunque alla spicciolata entro le 22. E per ognuno Ivan coniò delle carinerie. Intanto poco dopo giunsero due vecchie Ford Transit bianche. Dal retro del primo furgone scesero in fila indiana otto ragazze agghindate con succinti abiti di scena mal celati da giubbini e coprispalle. Sei erano sicuramente nigeriane o del Ghana, mentre le due mulatte erano sudamericane. Dall'altro otto mezzo spuntarono altre due procaci amazzoni del centro Africa e cinque o sei transessuali. «Uh, ecco il cioccolato di carne attiva e passiva per quei maiali da coca e business!» esclamò divertito Ivan, con l'anico alla massimo di zumba impiantata sulle orbite oculari, mentre Aurelio già si era predisposto con il binocolo ad annotare quanto vedeva. Anche ad ogni arrivo precedente rispetto a quello delle prostitute di colore, Ciana non aveva risparmiato battute per nessuno. Alcune, per il sarcastico acume, impedivano gioiosamente ad Aurelio la trascrizione degli appunti per l'articolo. «Toh, chi si vede? Il bamboccio fondatore del Social Time simpatico per allietare i turisti», chiosò appena vide un ex assessore. «Guarda, guarda, ha fatto più slalom lui di un gigantista quando c'era da incontrare i rappresentanti delle associazioni culturali», bollò così un altro amministratore appena intravisto. «No, questo non me l'avevi detto, c'è anche Nino Bastone, l'unico uomo della terra munito di collare rigido sul collo fin dalla nascita, ma non era comunista un tempo», sghignazzò affibbiando colpi bassi all'ex capogruppo dei posto democristiani. «Se la carne a rosso aveva fin lì dominato nei fluvi a ondate alterne, ora erano le sensazioni visive, in anticipo su quelle tattili, ad essere stimolate dalle improvvisate ballerine dai colori sgargianti, sculettanti e con altre mosse invitanti per calamitare l'attenzione». Allora, ovviamente non mi voglio entrare molto sulla trama, spero di avervi già incuriosito così, me lo auguro, però vorrei più che altro raccontarvi un po' di anni tutti prima di andare a leggere l'ultima lettura e magari dialogare un po' con voi. Allora, quando ho scritto questo libro eravamo nel 2013-2014, quindi eravamo prima di tutti quei libri scritti da Nuzzi, prima del libro Lussuria di Fittipaldi, cito questi due giornalisti perché, non so se vi ricordate, sono stati praticamente processati dal Tribunale Vaticano perché avevano pubblicato dei libri dove avevano la fonte interna, la talpa interna, all'inizio sembrava quasi dovesse succedere chissà che cosa, alla fine gli hanno prosciutti perché tutto proveniva dall'interno, quindi loro non potevano fare nulla. Però racconto questo per dire che innanzitutto, anche se qua in questo spezzone sembrerebbe che il libro voglia andare a cercare sul pruriginoso, in realtà non lo è. Quello che ho cercato di scrivere è un giallo che facesse riflettere. Io non ho la tendenza a scrivere gialli, diciamo così, puri. Già indietro il vento c'erano delle anomalie, nel senso che c'era della sperimentazione che a me piaceva portare avanti, come ad esempio delle parti molto umoristiche, voi sapete che nei gialli non c'è umorismo, anche se adesso si sta cercando un po', tutti cercano in qualche modo di alleggerirlo, perché se voi prendete un giallo svedese, un giallo americano, statunitense, vedrete che di vera e propria ironia non ce n'è, c'è una secchezza quasi proprio pura, che non ci sono possibilità, insomma, di svicolare. Un giallo che fa pensare perché, dovrebbe far pensare perché io, come ho detto tante volte, durante le presentazioni di Dietro il Vento, io utilizzo il giallo, soltanto per, diciamo così, come genere, per adattarlo alle mie esigenze espressive. Esigenze espressive che nello specifico sono state quelle di parlare di un argomento piuttosto tosto, e qui vengo al secondo aneddoto, cioè quello di parlare della Chiesa. Quando praticamente ho in qualche modo, diciamo così, parlato con Gavino Ganao, che è quello che ha realizzato la copertina del libro, che è un mio carissimo amico, adesso abita a Sasser, un pittore, diciamo così, abbastanza affermato, e gli ho chiesto, gli ho dato delle idee su come poter in qualche modo realizzare la copertina, e lui ovviamente è stato uno dei primi a leggere il romanzo, il manoscritto ovviamente, ma cosa che ha detto quando l'ho letto è stato, ascolta Francesco, io devo fare la copertina e mi prendo sicuramente la mia dose, diciamo così, di possibili, diciamo così, tirate d'orecchie, ma tu qua rischi veramente che ti facciano a pezzi, a tempi in particolare ovviamente, ed era veramente, mi diceva, secondo me dovresti smussare, dovresti togliere qualcosa, ci sono dei riferimenti, non lo so, sono troppo marcati, troppo evidenti, guarda che ha a che fare con gente, come si dice, vendicativa, per cui, diciamo che se da un lato mi voleva intimorire, io picchia intimorire, diciamo così, piccato e tobbe, mettiamoci un po' di sana, in coscienza e andiamo avanti, però arrivati al punto in cui bisognava stilare un po' la scaletta delle presentazioni, la data di Tempio stava per essere cancellata, perché ho presentato il libro a Cagliari la prima volta, ormai stiamo parlando del 26 di novembre, appena è uscito il libro, fine novembre, e poi il primo dicembre era prevista la presentazione a Tempio, e tutti mi dicevano, ma ci sarà qualche prete durante la presentazione? A dire il vero, quando io l'ho scritto nel 2013-2014, il mio intento, dal romanzo giallo di riflessione, era quello che effettivamente, così come adesso c'è Marco Ronchi qui a fianco, ci potesse essere nel ruolo di, chiamiamolo moderatore, non padrone di casa, anche se ho fatto due presentazioni anche in struttura della chiesa, a Sant'Antonio di Gallura è successo, mentre a Silico la presentazione è saltata, perché la responsabile della prologo non si è presa la responsabilità di farmi presentare il libro in una struttura della chiesa. Ha letto le prime 50 pagine nel PDF e si è spaventato. Dicevo, a Tempio stava quasi per saltare la presentazione, nel senso che tutti mi dicevano, ma non so, secondo me dovresti in qualche modo coinvolgerli, in particolare uno di questi, solo che uno di questi, se venisse, fosse stato coinvolto, a parte che avrebbe fatto danno a se stesso, e poi di conseguenza pure al sottoscritto, perché lui è in una posizione molto critica, all'interno della nostra sede, diciamo così, vescovile, o comunque nella diocesi, perché sa tante cose che io non ho messo nel libro, nel senso che io in questo libro, ci tengo a precisarlo, di tutto quello che accade, di reale, se volete ve lo dico soltanto dopo, ma ha poco a che fare con la chiesa, l'unica cosa reale che c'è, il resto è tutta pura invenzione. Quella che non è invenzione, in qualche modo sono certi profili psicologici di alcuni personaggi, che effettivamente si possono facilmente ricondurre a qualche ecclesiastico della mia cittadina. E siccome questo che doveva venire è uno di questi, non so se convenisse anche a lui, sia dal punto di vista narrativo, ma anche dal punto di vista poi un domani di tirate d'orecchia da parte del suo vescovo, con il quale è a tira e molla, più tira che molla. E poi alla fine la presentazione si è fatta, è andata abbastanza bene, tutto sommato, però, diciamo così, è andato tutto liscio. No, perché rispetto ad altre, alla precedente, diciamo così, tour di presentazioni che ho fatto, ho riscontrato che in alcuni posti dove ci sono determinati sagerdotti, purtroppo mi hanno fatto andare quasi deserta la, come si dice, la presentazione, cioè c'erano più o meno le stesse persone di oggi o poco più. Quando, la volta precedente, c'erano 40 persone, 35 persone, parlo di posti come luogo santo, anche se un piccolo posto, c'erano 40 persone. Sarà perché mia moglie insegnava lì, fino all'anno scorso, sta di fatto che c'erano una quarantina di persone, un successo, tutta la giunta schierata. Giunta, c'era soltanto l'assessore che si stava scusando della miseria e la cosa che più mi ha fatto riflettere è stato questo, cioè io proposi al sindaco tre date, scelse lui, dopodiché arrivo là a luogo santo, tocco la mano all'assessore e mi fa, guarda, il nostro sindaco aveva un appuntamento già previsto da quasi due mesi, un mese, e quindi aveva un impegno istituzionale e non poteva venire. Allora mi sono chiesto come mai ho scelto proprio quel giorno. Poi c'è un sacerdote molto particolare a luogo santo, che tra l'altro abitava nel mio palazzo, prima di andare a fare il parroco a luogo santo, che tra l'altro è a luogo santo, tanto per cambiare, anche lui tra virgolette per punizione, nel senso che pare che abbia compiuto qualche gesto un po' particolare in un'altra zona della Sardegna, non molto distante dal luogo santo, non li fanno spostare molto, non si sa mai che facciano qualche chilometro e l'hanno spostato qualche ventina di chilometri più a Occidente. Sta di fatto che questo sacerdote pare che, siccome la presentazione era prevista subito dopo la messa e se conoscete il luogo santo il comune è proprio di fronte alla chiesa, all'ingresso fondamentalmente quasi all'ingresso del paese, di tutti quelli che c'erano a messa non è venuta una persona, l'altra volta di tutti quelli che sono venuti a messa c'era più gente quasi alla mia presentazione che non a messa. Sant'Antonio, vado, il sindaco non era presente, l'altra volta, l'altro è il sindaco più più giovane d'Italia, Sant'Antonio, non so se lo sapete, è il sindaco di Sant'Antonio, l'altra volta contentissimo di vedermi, stracontento, tutti alla giunta schierata, non c'era tantissima gente ma c'erano tutti loro molto contenti, la seconda volta è venuto soltanto perché ho chiesto all'assessore se il sindaco poteva venire a fare un saluto almeno, saluto non ne ha fatto, si è seduto lì tre minuti, ha fatto finta che gli arrivasse un messaggio a chi si è visto, si è visto. Eravamo nei locali della parrocchia, c'era anche un sacerdote o forse non era un sacerdote, il quale mi ha detto, ma lei per caso è Don Francesco Cossu, ha detto, beh che vesto di nero, però guardi, non sono Don Francesco Cossu, mi chiamo Francesco Cossu, no perché io sapevo dovevo venire a presentare un libro di Don Francesco Cossu, che è stato parroco d'Arzachena fino a poco tempo fa, vado a D'Arzachena a presentare il libro, il romanzo, aspettate se mi ricordo la data, se non ricordo male era il 4 o il 3 di marzo, quindi un mese fa, anche lì tutti convinti che praticamente ci dovesse essere Don Francesco Cossu, appena hanno visto che c'era Francesco Cossu, senza Don, di mezz'alto alla sala, non sto scherzando, troppo è così, tra l'altro c'era Francesco Giorgioni che forse conoscete, è stato lavorato qua nella redazione dell'Unione Sarda, mio collega, oltre che colui che ha preso il mio posto a scuola questi due mesi che ho dovuto prendere di aspettativa tra ottobre e novembre, e lui mi ha detto, guarda c'è stata questa, la mattina mi ha avvertito prima della presentazione, guarda che c'è stata questa sorta di, come posso dire, di fraintendimento, per cui molti da Arsacchiano sono convinti che stasera deve presentare il libro Don Francesco Cossu, che è uno che quando si muove, smuove tante coscienze, chiamiamole così. Infatti, ripeto, alcune signore, di una certa età, appena hanno visto il sottoscritto, hanno visto questo rosario dove la croce si stacca, hanno pensato praticamente a qualche seduta spiritica, hanno pensato a qualche satanista, lì avevo la camicia proprio nera, qua oggi è grigia, quindi sono già più soft, sono andati via e siamo rimasti con 12, 13, 14 persone, ecco. Da poco sono andato a Radio Telegallura, è una piccola emittente che c'è a Tempio, non so se lo sapete, ma Radio Telegallura praticamente occupa dei locali che appartengono anche a farlo apposta alla diocesi. Il libro è uscito a metà novembre, è stato pubblicato a metà novembre, l'altro dietro il vento, dove non si parlava di chiesa, anche se c'era un vescovo, come vi ho detto, piuttosto chiacchierato, però era un'altra cosa, era uscito, era stato pubblicato a ottobre, io sono andato a Radio Telegallura a fine novembre a presentare il romanzo in questa piccola emittente locale. Qua mi hanno fatto aspettare 4 o 5 mesi, l'entente ci hanno pensato prima. Dopodiché, prima di mandarla in onda, praticamente c'è stato un montaggio lunghissimo, dal punto che io ho chiesto alla figlia del responsabile se c'era qualche problema di montaggio. Non so se qualche problema di montaggio c'è stato, sta di fatto che se voi guardate questo video, ogni tanto praticamente ci sono delle interferenze, sembra che ci sono delle interferenze. Se si sta molto attenti si riesce a capire tutto, se non si sta attento ogni 4 o 5 minuti, a volte anche ogni 3 minuti c'è qualche interferenza non si capisce bene quello che dico. È stato di fatto che un po' di tempo mi hanno fatto aspettare. Comunque sia, adesso il, tra virgolette, secondo me il peggio è passato, più che altro mi chiedono, ogni volta che vado fuori il Tempio, mi chiedono come l'ha presa la Chiesa di Tempio. Io rispondo sempre allo stesso modo, e anche qui rispondo così. Sono una persona molto riservata per cui non lo so, ed è la verità. A mezzo ne avrei altri, però preferisco magari, prima di dare l'ultima parte della lettura a Enea, magari se volete in qualche modo porre qualche domanda a voi, e poi magari io mi riallaccio per dirvi qualcos'altro anche del romanzo, senza svelare nulla, soltanto qualche delle piccole cose, ecco magari, se vi è incuriosito. Se c'è qualche domanda... La faccio io una domanda. Sì, prego. Mi incuriosiva appunto quanto di fantasia c'è effettivamente in questo romanzo, e quanto di vero c'è, o comunque c'è qualche riferimento, visto la reazione che la pubblicazione di questo romanzo ha suscitato nella Chiesa diocesana? Allora, come ho in qualche modo anticipato prima, un fatto c'è, è vero, però riguarda la Chiesa soltanto un po' molto, molto lontanamente, cioè, effettivamente io mi sono rifatto ad un suicidio che c'è stato, che si è verificato, però non è quello a cui hanno pensato tutti a Tempio, a Calangianus, a Luras, e cioè di un ex seminarista di Luras di circa 30 anni che si è tolto la vita, mi sembra, 8 anni fa. No, il riferimento è a un giovane poeta di Alghero che si chiamava, si chiamava, Luca 3 anni nel 2012. Io l'avevo conosciuto questo giovane ragazzo, due mesi e mezzo prima che si suicidasse, e in qualche modo sono venuto in contatto con lui nel peggior momento della sua vita. Cioè lui praticamente, un po' come il seminarista nel romanzo, è finito dalla persona sbagliata che lo ha incanalato nella persona più sbagliata che ci potesse essere, e cioè, praticamente questo giovane, questo giovane di Alghero, soffriva di una borsite e faceva nuoto a livello agonistico, per cui la borsite gli impediva di nuotare come si deve. Va da un fisiatra. Questo fisiatra inizia a fargli dei discorsi piuttosto particolari vedendo che lui, dal punto di vista psicologico, non potendo più nuotare come prima, era in qualche modo, diciamo così, si era un po' depresso. Non depressione proprio patologica, comunque una forma di depressione latente ce l'aveva. Quindi ha visto la debolezza del soggetto e anziché praticamente pensare a curarlo dal punto di vista medico, ha iniziato praticamente a buttarla sullo psicologico, cioè della serie di due sono guai di natura psicosomatica. E allora lo ha in qualche modo, diciamo così, incanalato verso questo professor Dore, che ve lo raccomando. Molti mi chiedono se mi sono documentato per scrivere questo romanzo. C'è una parte contabile sulla quale mi sono molto documentato, a tal punto che mi sono messo a studiare tecnica bancaria, che per me, che pur avendo fatto ragionieri e poi mi sono laureato in lettere, potete capire. L'altra parte in cui mi sono documentato è proprio su questo professor Dore, sedicente inventore di una disciplina che esiste soltanto nella sua testa e che si chiama psiconeuroanalisi. Questo professor Dore, forse, adesso cerco un po' di rinfrescarvi la memoria, secondo me, in qualche modo adesso lo riconoscerete, è diventato famoso nel 2013 perché lui era il responsabile di una clinica a Ittiri dove si curavano, tra virgolette, i malati di Alzheimer. In questa struttura un metodo per curare erano appunto i vecchi schiaffoni, che lui giustificava con quella che chiama prementalizzazione, cioè prima che l'uomo potesse fare delle attività cognitive con la mente, capiva soltanto i colpi. Quindi anche questi, che sono regrediti in una fase in cui la mente non ha più la funzione vigile che aveva un tempo, possono capire soltanto i colpi. Una sioma molto particolare, ma sorvoliamo. Sa di fatto che a un certo punto a molti familiari si resero conto che i loro cari venivano presi a schiafi, venivano in qualche modo maltrattati, malmenati e quindi sono rivolti alle forze dell'ordine, telecamere e dopodiché è stata chiusa la struttura e il buon, come si dice, il buon professor Dore è stato praticamente denunciato. Luca Scognamillo invece è andato da Dore un anno prima che Dore venisse in qualche modo scoperto attraverso le telecamere, articoli sul giornale, articoli sulla, diciamo così, non sulla stampa ma servizi televisivi, videolina, R3 regionale e così via. Luca Scognamillo va assieme ai genitori, era ancora un ragazzo, l'hanno accompagnato e una cosa che ha fatto questo professor Dore è andate pure a farvi un giretto e ritornate fra tre ore. In pratica l'hanno lasciato tre ore con questo sedicente psiconeurologo, il quale gli ha manipolato il cervello. Proprio glielo ha giato completamente. Ma qual è il fine di questi, di questo soggetto, di questo fisiatra, di professor Dore che ha plagiato una professoressa universitaria che veniva spacciata come il futuro della neurologia in Sardegna, avrà avuto all'epoca 37-38 anni, oggi ne avrà 43-44, più un infermiere, un altro medico e altri, un altro piccolo gruppetto che praticamente si fanno le lezioni tra di loro. Cioè io mi sono dovuto documentare in questo modo e non sto scherzando, a parte qualcosa di scritto. Lezioni assurde su YouTube, mi sono dovuto sorbire quattro ore di questo sedicente professor Dore, dove davanti aveva non semplici studenti ma adepti, che quando prendevano la parola, più che fagli delle domande, prendevano spunto per confermare quello che aveva detto lui. E' lui che si beava di questi assist e continuava nelle sue, diciamo così, nelle sue teorie, più che teorie nella sua follia. Sta di fatto che Luca Scognamillo, qualche farmaco che lui gli ha prescritto l'ha preso, altri non gli ha presi, sta di fatto che la depressione è peggiorata anche perché lui ha giocato tantissimo sui sensi di colpa. Tu scrivi poesie, no, non devi scrivere poesie. Noi l'avevamo invitato ad una rassegna di poesia che si è tenuta a tempio fino al 2016, abbiamo partecipato un paio di volte anche a Marella Giovanelli come poetessa, quindi magari lei la conosce come manifestazione. L'abbiamo invitato per presentare le sue poesie a cui noi associavamo delle immagini e dei video, era proprio video poesia, una cosa molto carina. Lui è venuto, ma mi hanno detto i genitori, con la madre sono ancora in contatto, poi vi racconto anche un aneddoto da questo punto di vista, mi hanno raccontato che lui il pomeriggio che doveva venire a tempio nel 2012, cioè proprio è detto che il dolore alla spalla era incontrollabile, ha detto che lui no, io non mi metterò mai in macchina, hanno dovuto forzarlo il padre, la madre e soprattutto quello che oggi è diventato l'avvocato di famiglia, che tra l'altro è di tempio e lo hanno, sono riusciti a portarlo a tempio. Appena sono arrivati la madre e il padre me lo hanno proprio lasciato lì, la serie pensaggi tu. Siccome era uno spettacolo questo risvegli poetici, perché è il sipario che aveva i suoi problemi, è le immagini, è l'ultimo momento, la sincronia, questo, questo, quest'altro, il microfono, l'altro microfono e la scenografia lì, io purtroppo non gli ho potuto, diciamo così, dedicare tutto il tempo che avrei voluto. Satisfatto che questo ragazzo cosa ha fatto? Si è seduto, manca fa la posta, abbiamo iniziato con le sue poesie, lette le sue poesie, recitate le sue poesie, è sparito e con lui i genitori. Un mese di silenzio dopo mi chiama, per scusarsi perché sicuramente tu mi hai preso per, anzi mi dava del lei, lei mi ha preso per un maleducato, io non lo so, non ho avuto queste cose qua. Cosa aveva saputo di questo giovane, tra le altre cose d'ore? Aveva saputo che, essendo figlio di un imprenditore edile, questo imprenditore, il padre gli aveva intestato un hotel, appena intestato un hotel, quindi lui lo ha messo contro la poesia, contro la fidanzata, si è persino lasciato con la fidanzata, lo ha messo nelle condizioni di lasciarsi pure con la fidanzata, lo ha messo contro la madre, lo ha messo contro il padre, alla fine Luca Scognamillo, dieci giorni prima di buttarsi dal ponte di Calabona, che collega come sapete si trova tra Alghero e Bose, era in una cena, lui, questo giovane, in una cena assorso, nove giorni prima, se non ricordo male, della sua morte, in questa cena c'era pure il professor Dore. Muore, questo ragazzo si getta da questo ponte, muore, soltanto quando l'anno successivo i genitori vengono a sapere che c'era questa inchiesta contro Dore per via dei malati di Alzheimer, allora anche loro hanno denunciato Dore per omicidio colposo, tuttora è in corso a Sassari il processo e io quando l'ho scritto questo romanzo avevo un po' di paura per la reazione che potesse avere la madre, il padre, soprattutto la madre, invece stranamente quando ci ho parlato gliel'ho detto, lei mi ha espresso tutta la sua felicità, è una donna che pur ancora molto giovane, a più o meno la mia età, forse uno o due anni più di me, è una donna che ha una mentalità molto aperta e gli ha fatto piacere il fatto che suo figlio ispiri tante persone a scrivere, tant'è vero che anche un giornalista della Corrella Sera ha scritto un libro e ha dedicato un capitolo interamente alla vicenda di Luca Scognomillo ed è andato anche a lui a Dalghiero a presentarlo, quando io sono andato a presentare il libro a Dalghiero a fine gennaio la madre si è schiodata da casa sua per cose non relegate alla spesa, per la terza volta da quando è morto il figlio, perché le altre due volte sono state solo in occasione di due spettacoli dedicati dai suoi ex compagni di scuola, a cui il primo ho partecipato anch'io nel teatro civico di Dalghiero e la seconda volta sempre per uno spettacolo dedicato al figlio, non si era mai spostata, non esce quasi mai, tranne che per fare la spesa e mi ha espresso tutta la sua felicità perché appunto anche se non direttamente sto portando avanti la memoria del figlio. Quanto adore si sa ormai che ha delle coperture, perché da alcune, diciamo da alcune, adesso mi sfugge la parola, quando si cerca di intercettare telefonicamente, intercettazioni telefoniche ecco, da alcune intercettazioni telefoniche si è già saputo che alcuni suoi legali stanno cercando di corrompere i periti del processo. Comunque sia, ripeto, lui gode di questi appoggi, siamo alla fase intermedia perché siamo all'appello, quindi ancora c'è la Cassazione, comunque l'appello ancora non è terminato e il suo avvocato sta chiedendo di spostare il processo da Sassari a non so dove, comunque fuori dalla Sardegna, perché dice che secondo lui c'è troppo interesse mediatico. Questo è. Ecco, questo per rispondere un po' alla domanda di Marco Ronchi è l'unica cosa fondamentalmente da cui io mi... c'è un capitolo che si intitola la psiconeuranalisi. Da questo, per tornare un po' al romanzo, da questo sedicente nel romanzo si chiama Professor Paba, ci vanno sia Aurelio Giù al giornalista e ci va Vittorio Corti, tutti e due in trasferta, cioè, no vabbè, Corti lo convoca in commissariato, mentre invece il giornalista ci va proprio nel suo studio. Ovviamente nel romanzo c'è una relazione da parte di questo Professor Paba con questi soggi degli anelli, ovviamente non vi dico in che senso, però c'è un legame. Ecco, l'unico legame con la realtà è questo, il resto, tutto quello che accade, tutto farina nel mio sacco, i sacerdoti per quanto ne possono aver commesso e da quanto ho saputo ne hanno commesso anche di peggiori di quello che ho scritto io, nella realtà, non compare nulla di tutto ciò. Se avete delle domande, se no leggiamo l'ultimo brano, magari leggendo l'ultimo brano vi fate un'idea ancora maggiore. Allora, l'ultimo brano, che andrà a legge tra un po' Elena, è un esempio di come Vittorio Corti conduce le indagini. È un metodo un po' particolare, ma qui addirittura vediamo che solitamente siamo noi andare a confessarci dai sacerdoti. Qui sembra quasi che Vittorio Corti faccia il confessore e Don Ruggero, che è il responsabile dei beni culturali, è un sacerdote responsabile dei beni culturali della diocesi, invece sembra lui quello che si sta confessando. Da quanto tempo non si confessa? Sputò lì corti, suscitandogli la rida del sacerdote. Che fai, spettore? Vuole capovolgere le rispettive funzioni? L'altro tracque, sollecitando con lo sguardo una risposta di per sé ovvia, e come tale venne soppesata. E si ricorda per caso la prima volta che si confessò? Rinnovò l'invito l'investigatore, senza cambiare espressione, come a dare più consistenza al senso non verbale delle parole. Mentre Meloni nascondeva lo sbigottimento, avvicinando il pugno destro sulla rispettiva tempia, quasi volesse sostenersi dalla meraviglia, De Logu colse al volo la stilettata di quella domanda. Il prete si profuse ancora in sonore risate, incoraggiato dal volto disteso e rilassato di Vittorio Curti. Il divertito oblaterale tra sé dell'interrogato subì un significativo arresto quando, sempre con leggerezza, vennero aggiunte altre considerazioni. Non rammenta se sentì un moto liberatorio ripulirle la coscienza? Don Ruggero incassò, ma ancora mantenne fede al programma iniziale all'insegna della massima disponibilità. Chi fu il suo primo confessore? Don Gaetano Aisoni, se non sbaglio. Il disappunto trapelò da come il prete, accigliò l'espressione, ma resistette, ispirandosi ad un'imposizione coerente con i suoi propositi. Fece spallucce a quelle insinuazioni nascoste sotto il velo dell'astuzia investigativa. Così, anziché cedere ai nervi, contrattaccò scivolando nella provocazione. Ispettore, ma con queste domande non ritiene di travalicare verso l'insolenza? Forse sarei meno insolente se lei fosse un po' meno sfuggente. Don Ruggero si contenne e rispose affermativamente circa il suo primo confessore, ma con un distacco che non passò inosservato all'occhio vigile di per critico dell'ispettore. Al resto non fornì alcuna risposta, né aggiunse alcunché. Però è strano come a chi viene chiesto di porgere l'altra guancia non riesce a porgere l'orecchio, fu la sarcastica constatazione di Curti. Il religioso avviò una generica lamentela dove pareva stufo di dover rivangare per la seconda volta la memoria del vicario diffunto. Che vuole? Lui aveva la sua missione, io la mia? Controbatte con ermetica soddisfazione. Non le pare una risposta che evidenzia solo pure indifferenza? In fondo Don Eisoni le ha facilitato la vita e la carriera ecclesiastica. E ma che diamine! Lei attribuisce a Don Gaetano finalità salvifiche e in ognuno di noi invece continua a ravvisare figure del male che lo volevano ostacolare. L'investigatore mise da parte l'ironia e passò a sferzare l'interrogato. Non le bastano tre morti perché si possa parlare di un'emergenza proveniente dal vostro ambiente? Io ho solo il dovere di far rispettare la legge che lei stesso non deve violare. Perché prima ancora di essere un sacerdote si ricordi che è un cittadino italiano e come tale non facciamo altro che rivolgerle legittimamente delle domande. Pertanto non si senta defraudato di chissà quali diritti qua dentro. Piuttosto agevoli il cammino della verità anziché schivare ogni domanda. L'interlocutore non solo non colse il lato positivo di quelle parole ma replicò rifiutando di considerare correlate tra loro le tre morti prima di chiudere filosofeggiando rispetto. Ispettore lei parla di verità di legge ma quella umana ha i suoi limiti. Anche le sue regole caro Don Ruggero. Il clima mutò. Da teso divenne freddo. Grazie Elena Frau. Non so se ci sono domande da parte del pubblico. Altrimenti se non ce ne sono ringraziamo Francesco Cossu. Vi facciamo in bocca al lupo perché sappiamo che domani presenterà il libro a Trieste e questo vi fa onore. Facciamo il nostro in bocca al lupo. ringrazio tutti voi di aver partecipato a questa serata. Vi do appuntamento la prossima settimana, venerdì, prosecuzione della rassegna letteraria Manola Bacchis nel segno del giudizio. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.